Salve, in questo momento a Palazzo Lacrede sta piovendo, oggi è giorno 23, e pare che oggi sia il giorno in cui sta passando la nuca radioattiva sull'Italia. Siccome sta piovendo vado a raccogliere l'acqua piovana per effettuare una misura. Una misura di radioattività, ovviamente. Vediamo, qua c'è dell'ottima acqua piovana. Vediamo un po'. Sì, sembra buona, però preferisco prenderla da qua. Perfetto. Ecco qua, dell'ottima acqua radioattiva. Buonissima, buonissima. Adesso vado a fare la misurazione, dopodiché farò il tè. Interessante, n'è vero? Grazie. Grazie. Grazie.